Riaprirà domani la discarica di Contrada Saraceno Salinella dove già questa mattina sono stati abbancati i rifiuti in attesa dello smaltimento. L'amministrazione annuncia si va verso la normalizzazione del servizio. Le polemiche continuano, l'ex assessore Cognata evidenzia che solo Sciacca è stata interessata dall'emergenza e dice ci saremmo aspettati ben altro approccio da un sindaco che sosteniamo di avere una soluzione per tutti i problemi. Lavoro nero e sfruttamento denunciato un imprenditore di Sambuca, titolare di un caseificio, tre dipendenti avevano un giovane romeno senza contratto e che viveva in condizioni igieniche precarie all'interno dell'azienda. Ospedale di Sciacca, il comitato per la sanità apprezza l'iniziativa del sindaco che ieri ha effettuato un sopralluogo nella struttura. La battaglia deve riprendere, dice Cucchiara, sul personale sanitario. Tappa Sciacca di Mediterranea, spedizione nautica e culturale che esplora le località più suggestive, è promossa da Simone Perotti che ieri sera la Liga Navale ha presentato il suo ultimo romanzo dal titolo Raiss. Sport, ieri sera allo Stadio Gurrera la presentazione dello Sciacca Calcio in vista dell'inizio del campionato di prima categoria. La società auspica che venga definita la questione della gestione dello stadio in attesa del vando. Un cordiale saluto e ben trovati sul tele Montecronio per il consueto appuntamento con la nostra informazione. Rifiuti, la buona notizia è che da domani verrà riaperta la discarica di Contrada Salinella Sciacca. Si va verso una normalizzazione del servizio, dichiara oggi l'assessore Paolo Mandracchia, che in mattinata ha partecipato anche all'assemblea della SRR, che è servita anche a fare il punto sulla situazione degli impianti che ha generato l'emergenza spazzatura di questa estate. Il punto in questo servizio di Maria Genuardo. Altre ore di passione legata all'emergenza rifiuti a Sciacca. Questa mattina la raccolta della spazzatura è stata effettuata, anche se qualche zona della città risenta ancora dei problemi dei giorni scorsi. A fronte dell'indisponibilità di altre discariche siciliane, si è deciso di abbancare i rifiuti in attesa di poter effettuare lo smaltimento. E l'assessore Mandracchia a fare il punto della situazione al termine di una riunione della SRR, che si è svolta in tarta mattinata. La situazione oggi prevede fortunatamente il recupero di quelle attività tecniche messe in atto in questi giorni. Sostanzialmente domani mattina inizierà la tritovagliatura nella discarica salinella. Quindi oltre alle operazioni di abbancamento che ci sono già verificate oggi, sono avvenute oggi, domani ci sarà il regolare conferimento. Quindi il prodotto che oggi è stato messo da parte verrà lavorato, quindi con la ripresa delle attività, quindi il ritorno alla normalità nella discarica salinella. Senta, possiamo dire che abbiamo superato un'altra emergenza, ma non sappiamo fino a quando? Ma in questo momento siamo fiduciosi che l'attività proceda con una certa regolarità. Superato il problema della stazione di compostaggio dovremmo rientrare in una situazione di normalità, anche perché dalla prossima settimana in poi il flusso di arrivo dei rifiuti presso le due discariche dovrebbe incominciare a ridursi, considerato che l'attività turistica incomincia a venire meno per motivi legati alla stagione protestiva. Quali iniziative si devono intraprendere per evitare che possano sorgere altri problemi? Le iniziative messe in atto saranno quelle di valutare le esigenze di migliorie tecniche che dovranno essere apportate principalmente alla discarica di Santa Maria, alla stazione di compostaggio. Sono delle esigenze di carattere tecnico che verranno affrontate nelle prossime riunioni, perché già ieri in questo breve incontro che c'è stato verranno fatte anche delle valutazioni in riferimento alle risorse umane in dotazione alla discarica per capire se c'è la necessità di aggiungere un altro turno per smaltire i prodotti che si sono accumulati in questa settimana. Intanto la polemica continua ad intervenire oggi il consigliere di alternativa popolare Gaetano Cognata. L'emergenza quest'anno è solo della città di Sciacca e non di tutta la Sicilia, come lo scorso anno precisa l'ex assessore all'ambiente della Giunta di Paola, che aggiunge dal sindaco Valenti che in campagna elettorale diceva di avere la soluzione a tutti i problemi. Ci saremmo aspettati una maggiore autorevolezza per far fronte all'emergenza in atto. Ex assessore che replica anche le dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa al nostro telegiornale dal consulente ambientale Mimmo Rizzuto. Sentiamo. Nella polemica tra maggioranze d'opposizione di centrodestra sull'emergenza di fiuti, ad intervenire oggi il consigliere comunale di alternativa popolare, nonché ex assessore all'ambiente della Giunta di Paola, Gaetano Cognata, che respinge le critiche rivolte dall'attuale maggioranza alla precedente amministrazione accusata di avere provocato lo scorso anno i medesimi disagi igienico-sanitari. In ogni caso, spiega Cognata, l'emergenza in atto non ha nulla a che vedere con quella della scorsa estate. La maggioranza intanto deve avere anche lo stile adeguato e bisogna anche saper vincere, come sol dire. perché se un sindaco durante la campagna elettorale non fa altro che evidenziare che sulla tematica dei rifiuti loro avevano grandi idee, grandi soluzioni e quindi evidenziava tutto quello che magari in quel momento per delle criticità poteva non funzionare, noi ci aspettavamo un passo diverso. Questo passo non c'è stato, anzi devo evidenziare che sulla tematica dei rifiuti ci sono stati diversi momenti in cui l'autorevolezza del Sino e dell'amministrazione non si sono visti, perché ricordo che la problematica quest'anno si è evidenziata solamente a Sciacca, mentre l'anno scorso, magari la maggioranza se l'è dimenticato, l'anno scorso era un problema generale, era tutta la Sicilia nel caos dei rifiuti e a Sciacca la problematica dei rifiuti è stata tenuta sotto controllo, cioè mentre a Mazzara c'erano 3 metri di rifiuti o in altri paesi qua vicino c'erano catastri di rifiuti, a Sciacca tutto sommato il problema era contenuto. Quest'anno invece tutto intorno era abbastanza pulito, mentre Sciacca non era così, quindi vuol dire che era un problema ben diverso. Il piano aro non c'entra nulla con l'emergenza in corso, prosegue l'ex assessore, il quale poi ricorda in che modo lo scorso anno il comune di Sciacca riuscì a superare l'emergenza. La problematica per esempio è legata non al piano aro come qualcuno cerca di evidenziare, cercando di portare il cittadino all'errore, ma è nell'impiantistica che in questo momento sta avendo i problemi, sta avendo problemi l'impianto di compostaggio, sta avendo problemi la discarica. Ma dove sta mancando l'autorevolezza del sindaco? L'anno scorso noi siamo stati utilizzati per esempio per quanto riguarda la discarica di Sciacca a conferire 34 tonnellate, con più giorni alla regione siamo riusciti nel periodo estivo a portarla a 70 tonnellate e quindi questa autorevolezza quest'anno sono stati utilizzati 50 tonnellate e dopo hanno avuto solamente un in più di poche tonnellate, quindi di fatto la problematica c'era perché d'estate si produce un maggiore quantitativo di indifferenziate e lì l'assessore e il sindaco doveva spingere sull'indifferenziata, doveva fare delle campagne anche mediatiche per invitare il cittadino alla differenziata e non dire sì le cose però non vanno, doveva spingere pesantemente sulla differenziata, doveva continuare quello che ha fatto la scorsa amministrazione con le guardie ambientali, io ricordo che negli ultimi 4-5 mesi ci sono state i guardie ambientali che facevano dei controlli in giro per la città, dico le cose buone dovevano continuare e anche sull'ultima vicenda si chiude la discarica, non sicuramente per un problema legato all'amministrazione ma per un problema tecnico, ma bene, in quel momento l'amministrazione doveva alla regione ottenere le giuste autorizzazioni, non ne slogan. Il consigliere di Alternativa Popolare che conosce nel dettaglio il piano Aro avendo lavorato in prima linea la sua predisposizione, a proposito del guasto al trito vagliatore della discarica di Salinella, replica anche al consulente ambientale Mimmo Rizzuto, il quale ha sostenuto nei giorni scorsi che la ditta che si è giudicata il servizio aveva il dovere di risolvere il problema anche ricorrendo ad un impianto alternativo. Non c'entra assolutamente nulla il piano Aro o la ditta per le problematiche inerente alla discarica, quindi è sbagliato dire che il piano Aro è legato perché è raccolto e trasporto. Il trito vagliatore riguarda l'impiantistica della discarica, l'impiantistica della discarica ad oggi è competenza dell'SRR e della Soggei Rimpianti che la gestisce. Lavoro nero e sfruttamento, i carabinieri della stazione di Santa Margherita Belice nel corso di un controllo svolto in collaborazione con i militari del nucleo espettorato del lavoro di Agrigento hanno denunciato all'autorità giudiziaria un imprenditore di Sambuca di Sicilia, titolare di un caseificio nel centro del comune. Nel corso dei controlli i carabinieri hanno appurato che uno degli addetti, un giovane cittadino romeno di 23 anni, lavorava nel caseificio senza essere di fatto stato assunto. Non solo, viveva all'interno dell'azienda perché a fronte delle condizioni di bisogno del giovane gli era stato messo a disposizione un alloggio angusto, privo dell'allacciamento alla rete elettrica e alla fornitura idrica in condizioni igienico poco dignitose. Per il titolare del caseificio è scattata la denuncia per sfruttamento del lavoro, ma nei suoi confronti sono state elevate anche sanzioni per alcune violazioni amministrative. Secondo quanto accertato i carabinieri, l'imprenditore non aveva concesso il riposo settimanale previsto e non aveva consegnato i prospetti paga al lavoratore. Nelle ultime settimane i controlli in materia di lavoro nero sono stati intensificati sia nelle strutture produttive del territorio, attività commerciali, sia nelle campagne. Furti nelle chiese, un fenomeno in crescita. Da Grigento i carabinieri hanno denunciato una donna di 40 anni, il figlio ventenne, accusati di avere sottratto 80 euro dalla cassetta delle offerte all'interno della Basilica dell'Immacolata. Le indagini avevano preso il via dalla denuncia del parroco e si erano avvalsi anche dei filmati di alcune telecamere presenti nelle immediate adiacenze della Basilica. Castelvetrano, molto probabilmente c'è la mano della mafia dietro l'ultimo incendio, il quarto in pochi anni che è interessato l'uliveto confiscato a Gaetano Sansone, uomo vicino a Totorriina, attualmente gestito dalla cooperativa Rita Atria. In fiamme domenica scorsa 400 alberi di ulivo. Se confermato l'incendio sarebbe soltanto l'ultimo episodio mafioso registrato a Castelvetrano che, come il recente scioglimento del Consiglio Comunale, confermano quanto il fenomeno sia ancora radicato nel nostro territorio. Sentiamo. Ancora una volta in fiamme l'uliveto gestito dalla cooperativa Rita Atria incontrata a Seggio Torre a Castelvetrano che domenica scorsa ha mandato in fumo circa 400 alberi di ulivo della specie nocellara del Belice. Un incendio probabilmente di natura dolosa. Se confermato non sarebbe una novità, dato che altre tre volte, l'ultima nel 2014, è stato accertato che sia stato volontariamente l'uomo a mandare in fiamme il podere. Un'ipotesi suggerita anche dal fatto che il fuoco sia stato appiccato in più punti all'interno e all'esterno dell'area coltivata. È quindi facile pensare che indietro l'incendio dell'area confiscata a Gaetano-Sansone ci sia ancora una volta non una mano qualsiasi ma quella mafiosa. Tuttavia non sono escluse altre piste come quella, seppur sempre di natura dolosa, che a provocare l'incendio potrebbe essere stato un pastore con l'obiettivo di fare crescere l'erba più velocemente per il suo pascolo. Tutto però porta gli investigatori a pensare che l'incendio abbia piuttosto l'area di un avvertimento. Domenica scorsa addomare le fiamme i vigili del fuoco di Mazzara del Vallo intervenuti non proprio in tempo perché impegnati altrove. Al presidente della cooperativa Rita Atria, Vito Mazzara, non è rimasto altro che presentare avanti al comando dei carabinieri una denuncia contro i gnoti per danneggiamento. Nessuna dichiarazione è merito all'incendio da parte dello stesso presidente che annuncia un comunicato stampa ma solo dopo che avrà avvertito i soci della cooperativa. In totale sono infatti in sette a gestire l'associazione che si occupa di mandare avanti l'azienda di produzione della nocellara, migliorare il fondo e curare il baglio al suo interno. Insomma, un episodio che si è confermato va ad aggiungersi agli altri fatti di natura mafiosa che di recente si stanno susseguendo a Castelvetrano. Primo su tutti lo scioglimento dello giugno scorso del Consiglio Comunale per Infiltrazione Mafiosa. Come arriva a dire che il fenomeno della mafia sia tutt'altro che sconfitto. Continuano i disservizi dell'erogazione idrica incontrata a Rocca dei Fiori, a Sciacca e residenti esasperati per una situazione che va avanti da anni non trovando negli operatori addetti al centralino di Girgentiacqua e delle risposte certe sui giorni e sulle modalità di distribuzione dell'acqua nella zona sono arrivati a chiedere tramite richiesta scritta al gestore idrico e al sindaco Francesca Valenti di essere messi a conoscenza dei nominativi dei fontanieri responsabili e dei tecnici operanti in viadoni zetti nelle strade adiacenti affinché si possa procedere a giusta denuncia per inadempienza. Conferenza dei capi gruppo questa mattina al Comune di Sciacca è stata convocata dal presidente Pasquale Montalbano in vista della seduta consigliare in programma domani sera. All'ordine del giorno ci sono diversi punti tecnici. Ospedale di Sciacca, il Comitato per la Sanità apprezza l'iniziativa ieri del sindaco Valenti e auspica che i controlli all'interno della struttura ospedaliera vengano fatti periodicamente. Si apre una fase delicata per il futuro del Giovanni Paolo II con l'insediamento nelle scorse settimane del nuovo responsabile dell'ASP ma soprattutto con l'avvio delle procedure per le assunzioni di medici, infermieri e ausiliari. Sentiamo. Il Comitato per la Sanità di Sciacca prende atto dell'iniziativa del sindaco Francesca Valenti che ieri ha effettuato un sopralluogo all'ospedale incontrando il direttore sanitario e primari di alcune unità operative. Era quanto avevamo sollecitato durante una recente riunione di chiara oggi al nostro telegiornale l'avvocato Ignazio Cucchiara. Il giudizio rispetto a questa prima iniziativa del sindaco è senz'altro positivo. Peraltro noi avevamo sollecitato il nuovo metodo, quello del controllo periodico. È un modo come dare il senso del padrone di casa, del sindaco in rappresentanza dell'intera cittadinanza. Questa è una struttura nostra, dei cittadini di Sciacca e dei cittadini dell'intero basino di utenza. Noi intendiamo in un rapporto peraltro di collaborazione e se possibile di promozione rispetto agli operatori del settore, pretendere un risultato diverso perché non dimentichiamo che questa, quello della sanità, è una battaglia di civiltà. Quindi la buona volontà, quello che abbiamo detto al sindaco, tu ti devi appropriare dell'ospedale. L'ospedale è tuo, non è del direttore generale. Il direttore generale deve venire a parlare con te qua. No, tu non devi andare lì perché lui è un funzionario al servizio della regione e deve dar conto di tutto quello che si fa al sindaco che rappresenta l'intera cittadinanza. Tra le questioni fondamentali c'è quella della copertura dei posti vacanti che ha visto il commissario dell'ASP assumere una prima iniziativa relativamente all'emergenza personale dei pronto soccorso delle strutture ospedaliere agrigentine. Il problema degli ascensori, delle zanzare, della struttura di quel finanziamento di cui si parlava, il problema della, per esempio, banca del cordone ombelicale, giusto? È una questione che noi vogliamo capire in quale direzione stiamo andando. Naturalmente tutto questo passa attraverso una gestione responsabile. È chiaro che accanto a questi problemi vi è quello del personale. Domenica sono state pubblicate delle delibere del commissario, del dottore Venuti, una delle quali ha per oggetto l'autorizzazione all'utilizzo di una graduatoria che risale al 2005 per la nomina attraverso lo scorrimento di otto dirigenti medici del settore del pronto soccorso dell'emergenza. E' già una prima scelta che a Valenza, anche se dubitiamo che questa iniziativa possa sortire l'effetto voluto, perché in graduatoria restano ancora soltanto otto concorrenti. Sul personale, aggiunto Cucchiara, si gioca la partita più importante. E' la battaglia che il comitato, assieme al sindaco di Sciacca e gli altri sindaci del territorio, intende portare avanti nei prossimi mesi. L'intervista integrale al coordinatore del Comitato per la Sanità andrà in onda al termine del telegiornale dello speciale RMK Notizie dedicato alle problematiche dell'ospedale di Sciacca. Ha presentato Raiss il suo ultimo romanzo, lo scrittore Simone Perotti, che ieri ha fatto tappa Sciacca con l'equipaggio di Mediterranea, la spedizione nautica di cui è ideatore, con cui sta girando il Mediterraneo per intervistare scrittori, artisti e raccogliere testimonianze e storie di vita. Di questo ha parlato ieri sera il pubblico della Lega Navale Sezione di Sciacca, che ha ospitato l'iniziativa. Vediamo. Ha fatto tappa Sciacca Mediterranea, la spedizione nautica che gira il Mar Mediterraneo, ad ospitarla la Lega Navale, dove ieri sera l'ideatore della spedizione e scrittore Simone Perotti, ha presentato il suo ultimo libro. L'iniziativa fa parte del programma oramai della Lega Navale, della sezione Sciacca, che si ripete di anno in anno. Sono circa 4-5 appuntamenti che si slocano nell'ambito dei 12 mesi, soprattutto ovviamente nel periodo estivo, e conseguentemente siamo in perfetta rotta per quella che è proprio la struttura, la funzione della Lega Navale stessa. Di Mediterranea, di cui è il fondatore, ma anche delle tante storie dei popoli del Mediterraneo e del suo libro RAIS, ha parlato ai nostri microfoni Simone Perotti. Abbiamo il brutto vizio di solito di essere stati a Capri e a Lipari e pensare di sapere cosa sia il Mediterraneo. Il Mediterraneo è un posto straordinariamente grande, ampio, fatto di culture, fatto di diversità, fatto di storia, fatto di contemporaneità, e che è molto difficile interpretare. Dato che ci sta così tanto a cuore, ad alcuni di noi, a un gruppo di noi, ci siamo decisi di intraprendere un viaggio, una spedizione per conoscerlo. A tre anni dall'inizio di questo viaggio, qual è l'idea che iniziate a fare del Mediterraneo? Che i politici sono una tragedia rispetto ai popoli, per esempio, perché i turchi sono persone meravigliose, ospitali, gentili, ci hanno ospitato dovunque, ci hanno aiutato sempre, invece la burocrazia turca ci ha ostacolato sempre, come spesso fa quella italiana, peraltro. Noi ci siamo trovati esattamente nell'Egeo orientale e nel Dodecanneso quando c'era la grande crisi greca delle migrazioni. Io ho dato una cima a una barchetta di migranti che non ci facevano più neanche arremare perché erano sconvolti. Ho visto le loro facce, li abbiamo visti ammassati nella baia di Chios, abbiamo visto le spiagge greche in cui non si vedono più i sassi, non si vedono più gli scogli, non si vede più la sabbia, perché è uno stuolo di giubbotti, arancioni, salvagenti portati dalla corrente. Ho potuto osservare il contatto tra i caronte illegali e questi poveracci portati lì da autobus messi a posto dalla polizia turca al confine con la Siria, dove venivano attesi, presi come i tifosi, messi in un autobus e portati. Quindi una cosa scandalosa che poi ha fruttato al governo di Erdogan dei miliardi non dovuti. Simone Perotti è scrittore, che cos'è Reis? Rimanda a quei paesi che si affacciano sul Mediterraneo? Beh, è un romanzo mediterraneo, un romanzo che si svolge nel 400 e nel 500, che è l'epoca della grande pirateria. Qui la scala dei turchi, che non è tanto lontana da qua, richiama queste atmosfere. C'è stata un'epoca in cui la pirateria che noi conosciamo essere come quella caraibica dei film, Jack Sparrow, sono tutte anche queste colossali stupidaggini di celluloide. La grande pirateria millenaria che ha coinvolto milioni di persone è quella del Mediterraneo, non quella che è durata 200 anni nei Caraibi coinvolgendo poche migliaia di disperati. I pirati erano degli eroi. Quando tornavano a casa, nelle loro case, che fossero pirati italiani o fossero pirati turchi o della barberia, poco importa, venivano festeggiati per settimane, perché erano quelli che portavano i soldi a casa, portavano le sostanze perché intere comunità potessero vivere. Approvato dalla Regione un nuovo bando FEAMP, destinato questa volta alla pesca sostenibile, all'innovazione tecnologica e al sostegno del reddito. Si tratta di una misura importante anche per il comparto di Sciacca, tant'è vero che il Libero Consorzio aprirà in merito uno sportello informativo presso la cooperativa fra i pescatori. Fino al 2020 sono disponibili 150 milioni di euro di fondi europei per la pesca. Sentiamo. È stato approvato dal Dipartimento regionale della pesca mediterranea il bando FEAMP 2014-2020, denominato diversificazione e nuove forme di reddito. Il bando intende promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze e contribuire alla diversificazione del reddito dei pescatori, sostenere il reddito e sviluppare le attività complementari. Per la partecipazione alla selezione, tutti gli interessati devono far pervenire domanda entro e non oltre le ore 14 del prossimo 13 ottobre. Si tratta di una misura importante anche per il comparto di Sciacca. Gli operatori professionali della pesca, delle marinerie di Sciacca, Licata e Porta Empedocle possono ricevere adeguate informazioni su questo bando negli sportelli informativi attivati dal Libero Consorzio del Grigento nell'ambito del progetto europeo Tarta Life. Gli sportelli saranno aperti anche nel mese di settembre. A Sciacca saranno presenti presso la cooperativa Fra Pescatori, sabato 9 settembre e sabato 30 settembre, dalle ore 9 alle ore 13. L'attività degli sportelli proseguirà sino al mese di agosto 2018. Le somme del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca ammontano in totale a 150 milioni di euro, di cui buona parte già mesti a bando dall'assessore al ramo Antonello Cracolici. Le misure si chiuderanno entro il 2020. Ultima corsa del treno dei Templi. Domenica 3 settembre, partendo da Caltanisetta o da una delle stazioni successive, sarà possibile raggiungere la Valle dei Templi di Agrigento con ingresso gratuito oppure raggiungere le stazioni di Porto Empedocle Centrale, dove l'Associazione Ferrovie Caos ha organizzato un porte aperte con visite guidate all'interno dell'impianto. Il treno storico effettuale è fermato nelle stazioni intermedi di San Cataldo, Serra di Falco, Canicattica, Strofilippo, Racalmuto, Grotte, Aragona e Agrigento Basse. In alternativa si potrà proseguire con un autobus fino alla scala dei Turchi per trascorrere un'intera giornata al mare. A Porto Empedocle sarà possibile inoltre assistere ai festeggiamenti in onore di San Calogero, l'evento organizzato dalla Fondazione Ferrovie dello Stato italiane con il patrocinio dell'Assessorato regionale al turismo e la collaborazione dell'Associazione Ferrovie Caos. Sarà intitolata la figura di Aldomoro, la sala riunioni del giardino botanico del libero consorzio comunale di Agrigento, che ospita al suo interno anche un grande plastico della città di Agrigento della Valle dei Templi. Lo ha deciso con propria determinazione il commissario straordinario dell'ex provincia regionale Giuseppe Marino. La cerimonia ufficiale di intitolazione è in programma il prossimo 23 settembre in occasione del centunesimo anniversario della nascita di Aldomoro. Nel corso della cerimonia alla quale sono state invitate le maggiori autorità e personalità politiche ed istituzionali, sarà anche scoperta una lapide in memoria dello statista ucciso alle Brigate Rosse il 9 maggio del 1978. Adesso vediamo il libro che oggi ci consiglia, la libreria Mondadori. Dopo 35 anni trascorsi negli Stati Uniti, Edoardo Rubessi è tornato a Torino. Ora è un genetista di fama mondiale ed è accolto con tutti gli onori, ma nella sua vita si nasconde qualcosa di oscuro, evocato da un messaggio che un uomo consegna a sua moglie. Chi è il dottor Rubessi? Attorno a questo interrogativo si spalanca una voragine pronta a risucchiare la sua vita e a riportarlo indietro nel tempo, alla Torino degli anni di piombo e al manicomio infantile di Villa Azzurra, un romanzo che attinge a storie vere e ci conduce tra le rovine del nostro passato recente. Quello che l'acqua nasconde di Alessandro Perissinotto, edito PM. Primo raduno dello sciacca calcio ieri pomeriggio allo Stadio Comunale al via la preparazione in vista dell'inizio il 24 settembre prossimo del campionato di prima categoria, società guidata per il secondo anno consecutivo da Enrico Mercurio e nuovo invece l'allenatore Franco Ingoldia, società che spera di qui a breve di ottenere la gestione del Gurrera attraverso un patto di collaborazione con il Comune in attesa del bando ufficiale. Ieri siamo andati allo Stadio. Per noi Noemi Tummiolo. Al via ieri pomeriggio la preparazione per lo sciacca calcio in vista dell'inizio il prossimo 24 settembre del campionato di prima categoria. La società Nero Verde guidata da Enrico Mercurio ricomincia con nuove ambizioni e tanta voglia di fare bene in campionato. Presidente Mercurio, già il fatto stesso che lei sia ancora alla guida di questa società significa che lei crede e vuole continuare a credere in questo progetto? Noi l'abbiamo detto già in un'altra intervista, non abbiamo intenzione di mollare. Dovevamo già mollare quando ci hanno fatto tante promesse e non le hanno mantenute. No, siamo ancora qui e faremo un altro campionato a sciacca. Si riparte dalla prima categoria. Quali sono le vostre aspettative in vista dell'inizio di una nuova stagione? Intanto abbiamo iniziato la preparazione e dobbiamo concentrarci sulla preparazione per portare la squadra a un regime fisico tale da poter affrontare un buon campionato. Poi vogliamo fare un bel campionato. Poi siamo ancora in attesa di sapere di quali sono le nostre dirette rivali del girone perché in base anche a chi verrà messo nel girone, perché i gironi di solito subiscono anche dei trasferimenti di società dal girone agrigentino a quello trapanese, a quello palimitano possiamo definire anche il nostro ruolo, perché se sarà un girone di squadre che non hanno intenzione alla promozione possiamo valutare delle pretese. Se ci arrivano a competitor di un certo livello dobbiamo capire bene dove andremo a posizionarci. Comunque puntiamo i play-off. Direttore generale Giuseppe Arasi, direttore sportivo Alfredo Iaria ed è pronto al suo esordio sulla panchina neroverde il nuovo tecnico Franco Ingoia. È un'avventura che speriamo di portarla nel miglior modo possibile è un onore allenare in una piazza come Sciacca che so che è stata sempre in categoria molto superiore cercheremo di onorarla nel migliore dei modi. Tra i veterani rimasti a far parte della squadra, Capitano Rizzuto. Siamo contenti di cominciare come ogni anno la solita voglia, la passione, quella che ci porta ad essere qui. È chiaro che a livello dilettantistico le difficoltà ci sono e sono anche abbastanza grandi. Però come ho detto poco fa, la voglia di giocare ci porta sempre qui. E l'obiettivo della società rimane quello di ottenere la gestione dello stadio Gurrera. Noi abbiamo presentato un piano finanziario abbastanza vantaggioso per il Comune so che è stato valutato, so che ci sono delle ottime valutazioni e nell'incontro che abbiamo avuto con il Sindaco Valenti ci è stato riferito che probabilmente tra il 15 e il 30 settembre ci dovremmo sedere per la firma non dell'affidamento in gestione bensì di un patto di collaborazione tra le parti lo sciacca investe e il Comune collabora con la società in attesa dell'uscita del bando pubblico di assegnazione dello stadio. È tutto, la nostra informazione si ferma qui le notizie di Telemonte Cronio tornano puntuali nelle prossime edizioni con gli aggiornamenti. Grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie per aver guardato il video